Genino, chiedo una consuetudine se sia consentito l'ingresso ai fenomeni più attesi della televisione italiana Tip e tappa I bambini vanno pazzi Vanno pazzi per tip e per tappa Per tip e per tappa Per tip e per tappa Silenzio, silenzio perché siamo già entrati in modalità di tappa Allora, spesso si è usato nelle dimostrazioni precedenti Buonasera innanzitutto, buonasera anche lei La parola forza del pensiero, la forza della mente Ma Maria, chiedo a te perché non posso chiedere a Zerbi che mi è contrario in maniera naturale Ma la forza della mente, la forza del pensiero potrà fare da contraltare alla forza bruta Alla forza materiale, alla forza distruttrice Non lo so, sarebbe la prima volta Eh sì, sarebbe la prima volta perché se no saremmo nei fumetti Sta cadendo un grattacielo e uno con la forza del pensiero Stop! Sta precipitando un aereo e uno con la forza del pensiero Stop! Ma questa sera vi dimostreremo che ciò è possibile Prendi posizione Allora, praticamente Praticamente? Praticamente, attenzione perché io l'ho spiegato con le mie parole Ma adesso lui lo spiega come si deve Dica Riuscirò a impedire che Martin vi dia la botta in testa E riuscirò a... A bloccare A bloccarlo Quindi creare un involucro Tu hai scelto Martin perché ha una forza, ha un impatto, ha un peso Martin, per favore Però devi giurare una cosa, Martin Tu non ti devi trattenere con la tua testa Tu devi metterci il tuo impegno da campione E io creerò l'involucro con giudici Attorno ai giudici Quindi lui non riuscirà a colpirlo Vabbè, vogliamo cominciare la dimostrazione con Teo Ma Mucari, attenzione Avete scelto per lo brutto Attenzione, attenzione Io non ho capito più Cioè lui colpedirò a margini di doppio Ah Poni, poni che può essere pericoloso Scusate, visto che io ho già capito che va a finire male No, no, no Vi spiace se nel frattempo vado in bagno No, stai lì, stai lì Non distraiamo, questo è il momento pericoloso Se lui perde la concentrazione col fratello La mazzata arriva in faccia a Teo Mammucari Attenzione, Martin Lo odi, lo devi massacrare Prendi la rincorsa, dagliela forte Allora Gerry dai, fermo, fermo Mi va malissimo, te lo dico Fermo, fermo, uno in Giamaica si è fatto male Eh, va pure qua Attenzione 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 Ora mi concentro Quando te lo dice lui, eh Eccolo, l'involucro è creato Prova, prova a compirlo Insisti, insisti, insisti Insisti È bloccato Più forte, prendi la rincorsa Tegliela, tagliela Oh, amarti Non posso Non ce la fa, è bloccato Basta, avevo capito È bloccato, signori È bloccato È bloccato Vorrei togliere l'occhiare Perché non si sa mai Martin, ci stavi mettendo la tua forza Ma secondo te non voglia tirare un cazzo in testa Adesso con la signora Maria sarà più difficile Perché so che una donna non si picchia nemmeno con un fiore Ma non badare Metticela tutta, eh, lì dietro Attenzione, prendete ordine da tipo Ma ragazzi, ma mi rendete conto di quello che siamo guardati? Io mi fido di loro Silenzio Io mi fido Silenzio, per favore ci sta guardando Piero Angela Puh, scusami Vai, attenzione Tappu, sei pronto? Sì Perfetto Vai Colpisci la foto Più forte Tagliela Ma Non ce la fa, non ce la fa È più forte il pensiero della clava È più forte il pensiero Un, due Hai rischiato grosso Sentite Andate un po' a fare il... Vieni No, Rudy, noi l'abbiamo fatto Dai, Rudy Già, parlo con me Per favore Vieni con me No, non c'è nessun problema Non siamo così scontati da darti una mazzata in faccia Ma io perché devo finire come nei cartoni animati con la faccia spaccata? Dai, per favore Cioè, ditemi perché Via, siediti Tu stai sereno Sì, sono serenissimo Attenzione, potrebbe scaricarsi lui, eh? Attenzione Dai tu l'ordine Posso salutare per l'ultima volta a casa Rudy, appoggia, ti appoggia, ti appoggia che se no l'involco... Ma perché? Attenzione Ma sei appoggiato Per favore, è lui che dà i tempi, zitti Questa volta conto su di te Vai No, dai, dai No, giù le mani Madonna mia, la paura Giù le mani, dai Rudy, fidati Ma non mi fido Ma fidati Non mi fido Tip, procediamo Perché lo so già come finisce Sei pronto, Rudy? Ho quattro fili Fidati di me Ti prego Vai Vai, Martin Mani, no, vai Aspetta Vedi Ecco che c'è l'involco Vedi, vedi che funziona Dai, caspi Dai Ah, vabbè, dai L'ho bloccato Non ce la faccio Vedi com'era mal finente Dai, dai, avviolo Ma chi è quello? Il fratello Carletto Il nuovo gemello Il nuovo gemello Dov'è? Eccolo Aia, aia L'ho fatto malissimo No, c'entro io No, no Vinalo, Carletto Vieni qua, Teo Vieni qua Buon autone Carletto Signori Il trittico si è formato Tip Tap Carletto E Carletto 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 Che meni Che meni Che meni Allora Maria stai giù Coltieni giù le mani Va bene Allora posso dire una cosa Scusate Tra l'altro Tra l'altro Riconosco adesso Carletto È quello che mi ha fatto vedere Delle robe Nella macchina Mentre pensavo Delle ragazze bellissime Mi lavassero l'auto Era sempre lui Quindi lui è un complice tuo Caro Ger Complimenti a questi fenomeni Grazie Grazie È lui È lui